E' vecchio Mario, lo devi capì Vieni nel mio perché se arrivi tu devi arrivare prima di qualcuno Comunque regà, stanno capendo dei game senza senso Ma è da un paio di giorni che la gente gioca dentro casa No, ti non hai capito Noi avevamo un team che ci ha ucciso Che ci stava camperando dove stavamo noi praticamente Ci stavano aspettando in tre posizioni diverse Dopo un team che noi avevamo ucciso Stava su Stanno sotto Ho fatto uno Ho fatto il volo dell'angelo Scusa Se ha abbastanza soldi il tuo team può pagarti la cauzione Scusa Andate da me, se volete? Beh. No! Che cazzo ho fatto, chat? Oh! Eh, clipate e mandate a lomba! Tutto i loro! No, 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 no! Dove, dove, dove G? Dentro o sopra? Bella madonna! Già mi sparano! No, dai! Filin, non ci si può andare, c'è un full team! E li attiro via! Hanno le loro armi, hanno i guard silenziati già! Ah! Ma! Ma! Ehm! Audio, 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 audio! Eh! Scusa! Scusa! Se ha abbastanza soldi, il tuo team può pagarti la cauzione! Dam? Da un giochinato, no? Non lo vedo! Non mi è arrivato neanche lì il frigore! Guarda lì! Nemico marcato! Nemico marcato! Ah, lì, vita! Oh, Dio, salto qui! Scoop! La mamma! Ma sai che era lui? Perché la schiena era questa! Vado oltre, vado oltre io! Io gioco la maschera! Non ho fatto uno, sobra! Che è druche! Ma, close, close! Sono emozionato! Sono emozionato! Ok! Ragazzi! Non c'è, non c'è! Ah, non c'è, non c'è, non c'è! Ah, uno mi fa, mi finisce! Ah, un lmg! Da adesso lmg, raga! Qua dentro ha il potere d'arresto, ti odio! Hai il potere d'arresto, lo so! Non è vero! Non si sa come non è morto! No way! One shot, one shot, più bra! Eh... No, sono morti tutti! Eh, no, sono morti tutti! Non c'è! Non c'è! Il tuo turno! Preparati! Regà, c'era un tizio che è come se mi avesse imbottato al petto! No, bimbo! Oh, ho detto già! Adesso che cazzo! Mi abbiamo tutti a pizza e merde! Ammazzata! Ci sono! Mi sono! Stunno? Stunato! Gli hanno studiato pure a me! No! di pellington ma passiva di quell'arma ottio purello morti tutti uno io l'ho ammazzato via via giacca che cazzo è successo ci abbiamo noi dietro pure un altro uno qua davanti su nado perché c'è stata talmente tanta gente che vedi ciao ragazzo ciao ragazzo come sapere il mio nome il tuo nickname ma si in verità di stalker sto vedendo ora che sta sorridendo bello ragazzo ciao gio buoni game grazie a te mi chiami orassi che non ti ho preoccupato per un attimo per un attimo ci ha avuto paura per un attimo ci ha avuto paura grazie chris game 1 2 3 per la subappagamento simon island 707 con gli otto mesi battecav 2006 per i tre mesi questo fanboy con i cinque mesi semmo il 94 per i due anni comunque prima cosa così più o meno 175 millisecondi è pure a me sembra forte forse la skin forse la skin san cesario san cesario instagram 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 fatto sono emozionato sono emozionato ragazzi questo qua ha cominciato a urlare sono emozionato sono emozionato quanta eroi 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 del real mara eroi ah si citta oh contenuto digitale contenuto digitale ma è quello che ho ucciso prima eh si stone ma è quello che ho ucciso prima che ho cecchinato un camion si 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 pure lui mi hanno fatto due mi ha fatto due